E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRigy01 e oggi siamo al terzo episodio di Pokémon versione Smeralda Randomizer Allora prima di tutto, nei commenti scrivete sempre quello che vi interessa, oppure i consigli, i Pokémon che mi interessano, magari li troviamo, li catturiamo insieme, tutti e di più E come state? Prima di tutto, oggi ho il sole in faccia, guardate qui ragazzi, oh my god E andiamo subito su Pokémon Smeralda ragazzi Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, continuiamo la nostra bellissima avventura, oh mi devo mettere così perché sennò il sole rompe il casino Ok andiamo, stiamo al percorso 104, cioè il mio percorso preferito ragazzi perché 104 è il numero preferito Oh subito un Pokémon, attenzione, 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 no non mi piace, non mi piace, non mi piace questo Pokémon di merda Oh vi ricordo abbiamo Parasect e il grandissimo Flappy Oh vediamo questa Pokéball, la pozione, la pozione, va benissimo, va benissimo, va benissimo Un altro Pokémon selvatico, un Minun Incredibile Anche questo non mi piace Non mi piace Plus e Minun Oh, questo qua debba essere un allenatore ragazzi, vero? Ok sì Vai affrontiamo questo bellissimo allenatore pro player Sto volendo ragazzi, sto volendo Bello Sprut, vai Ma come sono fatte le piante, le radici? Oddio, ma è bruttissimo Allora, ve le impolvere, vai Vai Parasect Ok Stavo avvelenato E' frustata Il consiglio che mi ha dato Leo ragazzi mi ha detto di vedere Le mostre, vabbè, le abbiamo viste Il tipo di Parasect è vero perché Abbiamo anche il tipo diversi ragazzi Quindi io mi diventio sempre di questa cosa Ma abbiamo il tipo diverso Quindi ora vediamo il tipo di Parasect Lo vediamo subito ragazzi Lo vediamo proprio instant Invece questo si usa ricarica totale Ok, siamo ritornati qua Ultimo graffio penso Ok, let's go Pappautte, pappautte Ok Va benissimo Allora Ma, imprendibile subito Cioè, ho fatto un passo Vabbè Cioè, manco ho fatto un passo ragazzi Subito avversario Vabbè, il trainer Slowking Ok, slowking livello 6 Interessante Svadiglio Ok, devo cambiare i Pokémon ragazzi Perché sennò dopo si addormenta E... Non voglio che si addormenti Quindi graffio non è Cazzi, Arola Quindi graffio non è molto efficace Sarà di tipo terra ragazzi E roba del genere Può essere che questa è la mia morte ragazzi Attenzione Andiamo con Tuono Shock Forse non ha effetto Se non ha effetto Di poterla ragazzi Vediamo un po' Ok, no What? Non sto capiendo Va bene Va benissimo Ok, il secondo Medite Lasciamo Fluffy ragazzi Lasciamo E vai Fluffy comunque è maschio Ho scoperto il tipo Non so manco che tipo è Però sarà volante penso Ok Ok ragazzi Ok Vediamo un attimo Il nostro bellissimo Parasect ragazzi Che tipo è Tipo elettro Tipo elettro ragazzi Tipo elettro Ok Allora qua c'è la lotta in doppio Vai Mia Noi siamo gemelle Mia e sua Come siano? Papiro Mia e Gina ragazzi Riguasa e Ma come il Riguasa Allora Facciamo una cosa Ve le impolvera Riguasa E tono shock A quest'altro Vai Vabbè la lotta in doppio Ragazzi Con Riguasa contro Attenzione Attenzione Vi sottrugge Riguasa Ma se Mossa De merda Ragazzi Vai con tono shock Fluffy Ok GG No canto ragazzi No Fa dormire Si Ok il veleno Effetto su Riguasa Allora facciamo Graffio Anzi facciamo Paralizzante GG Bluff No Graffio a Riguasa E azione Quanto toglie? Oh Tornato ragazzi Di Riguasa A entrambi Attacca Ok non mi fanno Niente Oh M'ha fatto addormentare Anche Parasect Ragazzi Riguasa Usa Tornato Dai Parasect Resisti Ti prego Vabbè ragazzi Un'altra volta Canto Zio Pera Oh GG Bluff Riguasa Ragazzi Top Duo Vedo l'effetto Su Riguasa Forse Non è morto Ancora Ok Parasect Ha ucciso Riguasa Perché se sveglia Avevo usato Graffio Ragazzi Fluffy vai No Sta ancora Dormendo Fluffy A sonno Ragazzi A sonno Fluffy Va benissimo Va benissimo La lotta Più lunga Del mondo Ragazzi Incredibile Incredible Dai Sveglia Di Fluffy Ti prego Questo qua Sta diventando Non so Dai Fluffy Vabbè Ci pensa Parasect Tranquillo Fluffy Grande Parasect Ok Speriamo che Abbiamo il centro Pokémon Qua sopra Ragazzi Perché non mi ricordo Dinceremente Però Ora vediamo Ok Abbiamo quindi Il allenatore Si Ok Non è qua È qua Incredibile Ragazzi Seconda Città E qua Forse C'è un Capopalestra Perché Ci aveva detto Il padre Che qua C'era una Prima palestra Ok Ferugipoli Ragazzi Ferugipoli Allora Palestra Eccola Andiamo Con questi Due Pokémon Ragazzi Vai proviamo Eccola Primo Vai Andiamo subito Andiamo subito A battere questa palestra Ragazzi Così Nercil Proprio 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 Nercil Vai Siete lì Cloister Questo ragazzi È un Pokémon P Mamma mia Molto Usato C'è Ce l'hanno tante donne Ragazzi Ma tantissimo Super suono Ok Quindi ci confonde Ve le impolvere Bravo Parasect Mamma mia Quanto sei forte Parasecto Mo lo chiamo Parasecto Ragazzi È più bello Ritirata Questo fa Le ritirate Ragazzi Attenzione Vai ancora Con Graffio Ok Forse Dovrebbe morire Così Con le ragazzi Ragazzi Comunque Il veleno È una cosa Troppo forte Ok Sto uccidendo tutti Col veleno Ragazzi Sto proprio Uccidendo tutti Con il veleno Ok Allora Andiamo di qua Poi Sconfiggiamo Oh Lotta in doppio Ragazzi Mi sa Sì Contro Petra Nel capopalestra Comunque Non mi ricordavo Come si chiamasse Ok Sempre il bambino Snorlax Wailord Io Dio ragazzi Sti due poveri Non possono salire Dentro Non possono entrare Dentro l'ascensore Comunque Stiamo così Vele in polvere A Wailord E Snorlax Subirà Una bella Tuono Shock Muglia e veleno Entrambi ragazzi Amnesia Che fa Ah ok Ruggito Wailord Che brutto Non si può vedere Ruggito Regà Wailord Vai con Tuono Shock Super Efficace Paralizzato Ragazzi Sono il più Forte del mondo Ragazzi Il bene Effetto Su Wailord Vai Graffia Wailord E tuono Shock Vai continuiamo così Ragazzi Ok Ok Snorlax Ragazzi È proprio Andato A quel paese È andato Fluffy Livello 15 Intanto Quando si evolve Fluffy ragazzi Non mi ricordo Un'incada Wailord Vabbè Effetto Ora facciamo Un'incada E su Wailord E su Wailord Andrà A casa Sua Livello 13 Per Parasecto Ok Niente Per Fluffy E Trambig Ok No Ho Obbiato Velen Polvere Tuono Tuono E tuono shock Nincada Vai Allora Facciamo un bel Graffio a lui E un tuono shock A lui Così Graffio Nincada Va A dormire Intanto abbiamo Fluffy Con pochissimo Edivita Ragazzi Oddio Meno male Che ha attaccato Parasecto Poi con tuono shock Fluffy Non vi ho fatto nulla Ragazzi Incredibile Forse Fluffy Potrebbe morire Attenzione Poi ragazzi Ho dato la pozione A Fluffy Perché Questo Pokemon È molto Tosto Devo dire E devo dire Meno male Che l'ho lasciato Per ultimo Meno male Ragazzi Che ho lasciato Questo per ultimo Perché Se stavo ancora Con altri due Era molto Tosto C'è con un altro Pokemon Magari Dai è quasi morto Sbagliato Vai Sì Sì È morto Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ok Perfetto 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 Ok Ora vado a curare Pokemon ragazzi Ci vediamo Nella palestra Azzurda Ok Eccoci qua Contro Petra Oh Petra Vieni qua Vieni qua Ci facciamo Un berserfi Ragazzi Attenzione Sorridente Ok Vai Andiamo 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 Poliwirr Ok Che sartella Come un coniglio Allora Graffio Vediamo Vediamo un po' Le mosse che c'ha Pistolacqua Mi siamo elettri Ricordiamo Cazzo Ipnosi Ok L'ho velenato Non so se mettere Fluffy o continuare Con Graffio Perché se mettiamo Perché se mettiamo Fluffy Lui è di tipo C'è c'ha Pistolacqua Quindi Meglio se E vabbè E vabbè E vabbè Dormi Dormi Fratello Ok No ho ricaricato Pozione 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 Attenzione Usa un'altra Pozione No Sì Non ci credo Ok Forse ragazzi Ma dico Forse Forse L'uccido Col veleno Il veleno Ragazzi È troppo Forte Non ci sto Credendo Ok Ouigi Pluff Ok Lasciamo Paraset Ragazzi Così Avveleniamo Anche lui Avveleniamo Se magari Si sveglia Dorme Ok Si è sveglato L'avevo usato Velenpolvere Mamma mia Ragazzi Graffio Basta che non mi usa Inibitore ora Usa la pozione Va bene Va bene Ok Un'altra volta qua No Inibitore fallisce Meno male Meno male Meno male Vago un graffio Addio Ouigi Pluff Ouigi Tuppola Come cazzo Rola Ti chiami Andiamo Illuminize Ok Facciamo sempre La stessa tattica Ragazzi Velenpolvere Paratello È troppo forte Comunque ragazzi C'ha delle mosse Fantastiche Oh No fallisce No ragazzi No ragazzi Parasect Morto Va bene Fluffy Fluffy Credo in te Vai Fluffy Vai Fluffy Ti prego Fluffy Ti prego Ti prego Fluffy Fluffy Mi sa livello 40 Se vuoi 30 34 Oh Ragazzi Ma quasi Ma l'ha shottato Questa un po' Dai Abbiamo vinto Prima palestra Conquistata Ragazzoli Prima palestra Conquistata E andiamo E andiamo E andiamo E andiamo Ragazzi Andiamo 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 Medaglia a pietra La lega pokemon Let's go Sì raga Sì raga Sì Ok 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 MT39 Ragazzi MT39 Rocciotomba Ok Vediamo se qualcuno Dei miei pokemon Può usare Rocciotomba Vediamo un po' Poverino Parasite Ragazzi Rocciotomba Vediamo un po' Penso nessuno Infatti 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 Vediamo la La medaglia ragazzi Guardate quanto è bella La medaglia Ragazzi Guardate quanto è bella Le due bellissime Mamela Ok E andiamo Perfetto ragazzi Ed eccoci qua ragazzi Abbiamo fatto la palestra La prima palestra Su Pomo Smeldo Randomizer Spero che vi sia piaciuto Mettete like Commentate E raga Sfidiamo al prossimo episodio Ciao belli Mua Mua